Ciao a tutti! Mi presento in maniera magnifica stamattina, sono completamente struccata, penso che si noti, appena sveglia, quindi un mostro! Niente, perché praticamente vi volevo parlare della BB Cream, questa qua, della Sobio, ovviamente la 01 con l'applicazione. Prima ovviamente di parlarvi di questa fantastica crema fondotinta, vi dico velocemente i trucchi inerenti all'EcoBio, regali che ho ricevuto. Allora, il primo è questo, ovviamente il contenitore, i trucchi sono i miei, questo contenitore porta trucchi che è carinissimo, e poi ho ricevuto un set da mia cognata, molto gradito, della Omnia, e questa è la linea, la mia preferita, quella all'argan, quindi bagno schiuma, sì, e la crema. Questa crema qui, sempre all'argan, in più in questo set c'era questa sorta di fascia, che teoricamente serve anche per la schiena, che fa l'effetto scrub, quindi grazie, e niente, vi volevo soltanto far vedere, questi chiaramente sono i regali inerenti al settore, poi vabbè gli altri non penso che vi interessino, insomma. Comunque, bando alle ciance, vi parlo di questa cremina. Allora, io adesso, chiaramente, ho parecchie imperfezioni, parecchi rossori, soprattutto zona mento, zona naso e zona sopra le sopracciglie. Qui anche laterale, un bel brufolozzo che sta uscendo, il periodo non è dei migliori, quindi vi faccio proprio vedere questo video proprio allo schifo totale della mia pelle, ma non fa niente. Comunque, quello che vi volevo dire, io mi sono lavata col sapone nero, nelle zone più grasse, poi più avanti vi farò una recensione di quel sapone, perché c'è molto da dire, secondo me. Comunque, mi sono lavata la zona T col sapone nero, poi ho messo il tonico alla salvia della mattina Gebhardt, e la mia crema viso, stop. Io metto la crema viso prima di mettere la BB cream, però non è una crema viso eccessivamente grassa, perché sennò poi andiamo a fare uno spacciutamento totale e, insomma, non vi consiglio. Comunque, aspettate sempre che si asciughi bene la crema viso, perché non va bene. Comunque, io vado ad applicare questa BB cream, così. Non ne serve tantissima. E io solitamente inizio dal mento, che è ultimamente la mia parte più problematica. Guardo qui, perché io lo specchio ce l'ho qui. Quindi comincio in questo modo, vedete? Purtroppo, diciamo, la luce, la telecamera fa un effetto sbiancante, che vi assicuro che non è, non corrisponde alla verità, perché la crema ha un colore comunque fantastico, che si ata molto bene alla vostra pelle. Vedete? Adesso io qui ne metto una quintalata, ma poi la prelevo e la vado a mettere bene anche sul resto del viso. In questo modo. E la resa migliore di questo, io lo chiamo fondotinta, perché alla fine è una fondotinta, ce l'abbiamo dopo un po', perché comunque il colore si va a modulare molto molto bene la vostra tonalità, dopo circa un'oretta, si adatta proprio al tono della vostra pelle. E la 01 per me come colorazione va molto bene, io comunque ho una pelle chiara, ma se siete sull'olivastro o comunque un pochino più scure di me, già non va bene questo colore, prendete la 02. Io comunque sono stata fortunata perché questa cremina appunto l'ho presa in negozio, dove ho potuto vedere i due colori, confrontare i due colori e vedere la differenza tra questa, che è quella più coprente, e quella light, insomma, quella più leggera, che cobre molto molto meno. C'è proprio una differenza di consistenza, che già vi avevo detto. C'ho le labbra praticamente screpolatissime, quasi spaccate. Purtroppo col freddo diventano così, anche se metto burro cacao. Comunque, non so se si nota la differenza da prima. Chiaramente io ho una pelle molto 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 problematica. Problematica, sia ultimamente, sia in questo preciso momento come periodo mensile, diciamo. Vi ripeto, non ho preso il mio periodo al top, però se vogliamo testare una crema, forse è proprio lì che ci deve dare una mano. Io la metto anche proprio qui, zona proprio occhiaie, che non ne ho tantissime, però la metto proprio qui perché funziona molto 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 bene, secondo me, anche come correttore. Allora, naso. Non so se riuscite a vedere la copertura. Non so se la luce fa un po' schifo, però... Vedete? Qui comunque c'erano molti rossori e la cosa è stata molto attenuata. Poi io vado a mettere il fondotinta, fatto da me, minerale, per una copertura ancora maggiore. Chiaramente, se non avete bisogno di tutta questa copertura, non andate a mettere un fondotinta minerale sopra, ma andate a mettere una semplicissima cipria. Io ho bisogno di molta copertura in questo momento, quindi ne vado a mettere praticamente un altro fondotinta sopra. E... ecco, comincio a mettere anche questo sopra. In questo modo. Purtroppo queste labbra screvolatissime. In questo modo. Faccio anche il collo. Questo penso che sarà il mio ultimo video del 2013. Mostriamoci in tutta la nostra bellezza, in modo tale da riniziare al meglio il 2014. E... niente. Anche perché dovevo uscire oggi, c'ho veramente poco tempo, perché poi domani partiamo e andiamo fuori per Capodanno. E metterò alcune foto, penso, su Facebook. Quindi, chi mi segue su Facebook, penso che, o su Instagram, penso che scoprirà dove passerò il mio Capodanno. Una città del nord, vediamo se indovinate. Comunque, comunque, andiamo io e mio marito tranquillamente, da soli. E quindi, sarà uno spasso. Un po' di giorni fuori, ci volevano. Non è una località con la neve o sciistica, perché non sappiamo sciare. Quindi, no. Pensate a una città. Non pensate a una località di neve, ecco. Comunque, mamma mia, non so cosa sta venendo fuori. chiesto il risultato. E la luce falsifica tantissimo, comunque. Tantissimo, tantissimo, tantissimo. Non so neanche se pubblicherò questo video, però, se non ho tempo di farne altri, credo che... penso proprio di sì. Comunque, allora, in questo momento, se non sono soddisfatta della copertura, c'ho ancora qualche rossore. Allora, o vado a usare il solito correttore, che è già di tornato minuscolo della sante, oppure, potete tranquillissimamente, riapplicare, proprio pochissima, pochissima crema, nelle zone più... arrossate, diciamo, problematiche. In questo caso, si vede? Sì? In questo caso, io, purtroppo, c'ho ancora dei rossori qui sul naso. Oppure sul mento. Tipo qui. In questo modo. Allora, la questione del lucida-non lucida dipende dal tipo di pelle che avete. Nel senso che, a me non lucida tanto, se applico, poi, una polvere minerale, o comunque una cipra, un fondotinta minerale, non lucida. Però ho fatto caso, se non applico, comunque, una polvere successivamente, effettivamente, in alcune zone del viso, un pochino lucida. Questo è, almeno al me. Dopo, secondo me, dipende dal tipo di pelle che avete, comunque sia. Però, in generale, secondo me, è un ottimo, un ottimo fondotinta. Questo gobre molto, molto, molto bene. Soprattutto, sul brufoletto, va a seccare l'impurità. E sicuramente, uniforme all'incarnato. Questo tantissimo. Non so se si nota la differenza da prima, però, cioè, questa è la base, eh. Quindi devo mettere ancora fard, occhi, tutto quanto. Le labbra sono disastrate. Stamattina, però, vabbè, comunque, a parte questo, cioè, l'incarnato, ragazzi, non è quello di prima. Forse così, lo vedete meglio, però, a me piace tantissimo. Piace tantissimo. Questa cremina, la ricomprerò sicuramente. E, e mi serviva soprattutto, perché, cioè, il fondotinta minerale, va benissimo, però, non mi dava più quella copertura, di cui ho bisogno ultimamente. Quindi, eh, insomma, sono stata un po' costretta a prenderla. E, niente, io vi saluto, vi faccio tanti auguri, di buon anno, e, sto cercando di caricare un bellissimo video di questo 2013, anche per ringraziarvi, che mi seguite sempre, nonostante, comunque, questi miei video sono molto casalinghi, casarecci. Eh, grazie a tutti, un bacio a tutti, e auguri di cuore, di buon anno. Ciao, ciao. 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 Grazie.